Siamo il dottor Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto e l'avvocato Francesca Maresca, assessore al Comune di Genova per la portualità. Speriamo di poter avere sempre questa continuità che è quella che il porto di Genova vuole avere. Due domande al dottor Botta. Cosa ritiene importante per il porto di Genova e per il suo sviluppo? Semplice, infrastrutture prima di tutto, quindi la necessità che questo territorio continuino la sua iniziativa di costruzione, di adeguamento delle infrastrutture e le esigenze di una città che è sempre più compenetrata dal porto. Poi abbiamo bisogno di tecnologia, in questo il Comune sta facendo tantissimo col tema sul 5G ed in ultimo abbiamo bisogno di progettualità che guardino al futuro in maniera importante, in maniera articolata e in questo senso pensiamo che il nostro progetto della Green Logistic Valley sia uno di quei progetti su cui l'amministrazione possa contare nel presente e nel futuro per dare a Genova un volto nuovo e soprattutto un rilancio a livello di servizi come città portuale ma anche di servizi tecnologici per il nord ovest dell'Europa. Ecco, su questi punti l'avvocato Maresca? Ma assolutamente, Gian Paolo Botta ha detto delle verità, stiamo investendo molto sulla digitalizzazione della città, del porto, stiamo investendo appunto sullo sviluppo economico dal punto di vista delle zone logistiche semplificate, aspettiamo la nomina del Ministero, dei commissari siamo pronti per partire e il progetto della Green Logistic Valley che prevede appunto una valorizzazione del territorio sia in termini appunto di sviluppo lavorativo che in termini anche di Green per noi è importante, quindi noi accogliamo con favore tutte le proposte che ci vengono fatte, credo che stiamo lavorando benissimo con Spediporto e con altre associazioni di categoria proprio su questi obiettivi e finalmente credo che ci sia una visione comune da parte di tutti. Mi pare che i numeri diano abbastanza volontà di crescita al porto di Genova, i numeri sono in costante aumento soprattutto per quanto riguarda i container e questo retroporto di Genova, la Green Logistic Valley diventa sempre più importante. Sì, i numeri del porto crescono ma non soltanto dal punto di vista dei contenitori ma anche di quello che è il settore della cantieristica, delle rinfuse, del traffico croceristico, del traffico rorò e di quello dei tragritti. Questo per dire che è scrupolo di Spediporto immaginare un progetto della Green Logistic Valley che non sia puntato esclusivamente al tema dei contenitori anche se nella loro accezione più nobile, quindi contenitori aperti, lavorati per l'industria, per i servizi e quindi una logistica green, ma dobbiamo guardare al porto la Blue Economy in senso molto ampio e quindi vogliamo seguire iniziative che possano premiare l'imprenditorialità Ligure che ha scommesso sull'economia marittima in senso allargato e questo è un nostro must che intendiamo raggiungere con l'aiuto delle amministrazioni, con l'aiuto dell'autorità del sistema e in primis con le imprese che devono credere nel territorio, sperando anche di trovare investitori internazionali disponibili ad investire su Genova, sulla sua retroportualità sia di primo miglio che anche più.